Il tuo consulente Agrometeo ti dà il benvenuto su Agronotizie. Il tempo è previsto fino al 25 maggio. Prevediamo tre distinte fasi. Una prima fase è lunedì 14, martedì 15, con rovesce temporale su tutta l'Italia per un vortice di bassa pressione centrato dapprima sul Golfo Licora e poi martedì sui vicini Balcani, vortice lasciato da quella perturbazione giunta nella giornata domenica. Rovesce temporale che saranno di forte intensità, soprattutto sulle Alpe, Prealpi, Piemonte, regione di nord-ovest in genere, dove sono previsti accumuli tra lunedì e martedì in tono 40-50 mm e quindi accumuli di per sé abbastanza notevoli. Le temperature saranno in sensibile calo, soprattutto al centro-sud, tanto qui le temperature scenderanno al di sotto della media. Seconda fase, 16-20 maggio. Bene, una moderata inestabilità pomeridiana per l'aria più fresca lasciata in quota da quel vortice di bassa pressione a cui abbiamo accennato prima. Per cui sono previsti rovesce temporali pomeridiane sulle regioni alpine, Appenninica, Abruzzo, Molise, Lucania e Calabria. Temperature ancora al di sotto della media al centro-sud, appena al di sopra della media sulle regioni settentrionali. Terza fase, tra il 21 e il 25 maggio, l'anticiclone della Zorre si allunga fino all'Europa occidentale, fino all'Ambira e alla Scandinavia, ma in tal modo abbraccia marginalmente anche il centro-nord dell'Italia dove ritorna tempo gradevole e bel tempo comunque, mentre sul meridione insiste una moderata inestabilità che potrebbe dar luogo a rovesce temporali isolati qua e là. In questa fase, temperature nella norma quasi ovunque. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliacci.